ok vai ragazzi sono carico sono carichissimo sono carichissimo ok via andiamo di partite è cruente non giochiamo le solite e4 d4 questo è il gambetto direi questo è infame questo è infame mai giocato in vita mia si giocherà così questo è veramente tanto infame questo gambetto perché ve lo dico subito perché vi permette un arrocco istantaneo e un grande centro adesso catturo su f4 spingo d4 abbandonato così va bene va bene punti gratis ragazzi punti gratis ci piacciono ancora abbiamo trovato un nuovo la nuova difesa 300 gambetto questo è un errore questo è un chiaro errore questo è un chiarissimo errore amico mio ora la pagherai c'è alfiere 7 che è fastidiosa come mossa alfiere 7 ammetto che è una mossa fastidiosa esiste questa mossa è carina eh sai che non me l'aspettavo non me l'aspettavo ammetto che è carina carina devo vedere se esiste perché non avendo mai giocato sto gambetto del kaiser ammetto che è carina lo ammetto se mi catturo il pedone lo catturo con il cavallo o anche con l'alfiere con l'alfiere o con il cavallo è meglio è un po' un po' aperta se catturo il pedone catturo con l'alfiere si punto su f7 il punto più debole dello schieramento vado di premuro con quale cattiveria alla prossima c'è donna 4 attenzione c'è donna 4 ragazzi donna 4 scacco cattura è un po' incerta questa partita eh però dovrebbe andare bene così donna 4 cavallo in c6 catturo il cavallo in c6 quindi non c'è più il difensore sull'alfiere in b4 e quindi e quindi così e quindi è così esatto esatto potrei anche catturare su c6 per fare il figo ma siccome non voglio fare il figo vorrei cercare di vincere la partita attenzione il mio re è abbastanza scoperto il mio re è abbastanza scoperto al punto giusto oserei dire uh c'è sotto la donna cazzarona oh non l'avevo vista stavo per perdere la donna bene queste sono quelle cose che mi rendono orgoglioso vai bisogna arroccare adesso bisogna arroccare assolutamente assolutamente pedone pedone alfiere qui alfiere qui per tenere il pedoncino avrei potuto giocare anche torre di 1 vabbè va bene uguale va bene uguale in realtà non va bene per niente scacco ora è qui mmm che brutta e fu così che perse la partita è brutta questa eh tac boh vado qua che brutta ragazzi questo cavallo ci fa qualcosa ci fa qualcosa di interessante questo cavallo adesso lo scopriremo intanto ci piazzo una torre qui scacco scacco così faccio una sorta di arrocco manuale ci piazza appartiene un po' dovrebbe cambiare non può meno male che c'è questo alfiere che tiene questo alfiere che tiene faccio un arrocco manuale metto il re in g1 non è partita complicata cioè complicata è piena di robe da da tenere ok vediamo se c'è qualche tatticismo probabilmente senza senza perdere per il tempo se è possibile non è che mo chiedo troppo chiedo su semplicemente di non perdere per il tempo se io attacco questo cavallo così con il re per dire vado all'attacco cosa potrebbe accadere? potrebbe accadere che mi va di cavallo in d3 e su cavallo d3 potrei semplicemente cambiare che avendo un pezzo in più in teoria la teoria degli scacchi dice che il vantaggio di materiale è importantissimo ok e mi sembra una mossa onesta mi sembra una mossa molto onesta molto ma molto onesta non so cosa sto giocando non so cosa sto giocando però va bene mi fido mi fido del mio intuito ok adesso c'è torre f8 torre f8 è problematica torre f8 è molto problematica e questo è un problema mamma mia che brutta a parte di poter mangiare la torre guarda che fesso mamma mia che fesso torre f8 mi avrebbe dato problemi ok catturiamo nel dubbio si cattura qui ci sarà duemila cose ci saranno perché tutti sono tutti pezzi sospesi non tenuti ok scacco controlliamo le case scure attenzione ragazzi potrebbe esserci un matto elegante con b4 matto elegante con b4 attenzione ragazzi attenzione uuuu bam carino bravo bravo anche questo sei giocata da dio bravo 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 se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco allora vienici a trovare all'interno dell'accademia di matto scacco sai che ti faccio un budapest gambit un budapest gambit ah però se tu mi fai questo non te la gioco più altro errore ragazzi questo è un errore comune lo vedo anche agli studenti dell'accademia ogni volta che mi fanno vedere una loro partita per analizzarla e dico ragazzi nella partita di donna il pedone in c2 deve essere lasciato libero di essere spinto poi muovi il cavallo lo dico sempre ed è un errore che viene costantemente fatto viene costantemente fatto perché uno è abituato a giocare la partita di re e ci mette i due cavalli e va bene ma nella partita di donna purtroppo funziona diversamente se giocherà alfiere di tre chi lo sa chi lo sa pre move di cattura di torre ok ora un alfiere cattivo che è l'alfiere guarda che bello posso colorare posso fare anche le frecce che meraviglia ragazzi non lo sapevo ecco perché questa versione beta è migliore eccola qui quindi posso no ragazzi basta ho vinto con questa qui sono a posto allora fammici pensare un po' tu vuoi spingere in E4 e mi sembra assolutamente corretto da parte tua una spinta in E4 ma ma prima ci vuole cavallo tu spingi cattura 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 ti ritrovi con la torre al centro e se io catturo qui vabbè facciamo così intanto ok poi potremmo così dico in amicizia potrei catturarti questo pedone tutto ciò sempre in amicizia oppure ti catturo subito il cavallo mi sembra non lo so non lo so cosa sia meglio oppure 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 sai che non lo so non mi piace nessuna di queste mosse oppure ci sarebbe non lo so non mi piacciono non mi piacciono donna C7 donna C7 bah donna C7 donna C7 però lì si crea un bel pedone sostenuto no non posso permetterlo assolutamente no eh va bene così va bene così ragazzi va bene così mamma mia infinite queste partite partite infinite ecco un'altra cosa che spesso insomma che chi gioca da poco tempo a scacchi non capisce che dire ah ok vabbè io gioco e ti batto però se io ho studiato molto più di te ho fatto molte più partite di te insomma e studio costantemente gli scacchi guardo partite di scacchi eccetera gli scacchi la cosa bella è che la fortuna conta veramente veramente poco diciamo che se hai 3, 400, 500 punti in più del tuo avversario è un po' improbabile cioè sappiamo già l'esito della partita questa è una cosa molto molto bella degli scacchi eh il fatto che la fortuna veramente conta poco un'altra cosa che bisogna capire invece è che gli scacchi e l'intelligenza non c'entrano veramente una mazza forse una millesima parte di questo ma non c'entra nulla c'entra veramente il giocatore che ha studiato più che ha più esperienza e siccome gli scacchi nell'immaginario collettivo sempre il gioco che è colui che è più intelligente o il gioco per intelligenti pieno di regole il gioco difficile viene visto come cioè se io batto te ok abbandonato va bene se io batto te allora io sono più intelligente di te in realtà no io batto te perché ho più esperienza sul campo tutto qui quindi va bene difesa francese uno spagnolo che mi gioca nella difesa francese niente neanche come si chiama questa difesa difesa moderna ah questa no non so come si chiama questa difesa se io ti faccio andare un po' spasso con i cavalli dici che è una cosa buona tac 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 siccome è una cosa buona cavallo d5 c4 credo sia una cosa buona ma non sono sicuro a meno che tu mi faccia uno scacco ora credo sia una cosa buona d5 cattura cattura prima giocherei a 3 si è trasformato in una specie di alekin che io adoro giocare mi stavi alekinizzando hai capito cattura 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 non è male non è male questo impianto lo devo devo studiarlo mi è piaciuto mi è piaciuto siccome non voglio scambiare le donne però ora tu ora sviluppi già l'alfiere bello bello ho il centro ma tu hai un bello sviluppino che mi piace però ecco ecco ci deve essere la la cosa che non andava perché se no era troppo bello se l'avrebbero giocato tutti no ok si c'è la donna pre move sulla donna ah ti sei salvato così no non ti sei salvato hai un pezzo in meno ok vai si gioca con un pezzo in più ora miro a cambiare essenzialmente tutti i pezzi che è la cosa che bisogna assolutamente fare tac però potrei anche ah no questo alfiere te lo lascio chiuso col cacchio che ti cambio il cavallo intanto questo te lo lascio chiuso poi che cosa ti faccio ti faccio una mossa tra bocchetto ti faccio alfiere g5 e chissà perché ho l'intuito che tu mi farai f6 facendo f6 mi indebolisci questa diagonale ah 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 quindi ho ottenuto lo scopo che volevo adesso facciamo questa e poi ti faccio questa ti punto su c7 però l'importante era andare a crearti problemi in quel punto lì ok quindi ora c'è questo pedone debole è importante rendebolire quella diagonale adesso se posso puntare su quel pedone con torre qui questo cavallo è diciamo inchiodato su quel pedone uh ulteriori debolezze su case chiare quante cose belle che sto vedendo allora giochiamo subito questa senza ulteriori indugi questa qui è la mossa che mi piace quel pedone di dito lo puoi tenere adesso catturo su questo no no ho fatto male i calcoli che calcoli del kaiser ho fatto faccio questa vabbè facciamo questa dai va bene in qualche modo in qualche modo le cose andranno bene non chiedetemi come ma in qualche modo mamma mia questo re questo re sfrontatissimo sfrontatissimo ah ti sei reso conto di avere un problema eh e se ti gioco questa adesso 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 dobbiamo incrementare la pressure dobbiamo incrementare la pressure pressure test dobbiamo incrementare la pressione su questo punto che è estremamente forte perché c'è il re dietro quindi per questo è incredibilmente forte quel pedone tra l'altro lui non ha le torri in connessione quindi questo rende ancora più forte il giochino si dovrebbe ora tipo sviluppare l'alfiere in qualche modo da qualche parte per far comunicare le torri ma sarebbe sotto attacco di questa mia torre perché lui metterebbe dietro l'altra torre e poi si vede sono sotto di tempo di bestia tra l'altro però ragazzi vedo che quasi se la giocano ditemi quello che volete ma sono persone che se la giocano cioè sanno giocare a scacchi sanno riconoscere le minacce sanno bene 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 sono felice e poi penso che un pelino di merito ce l'abbia anche l'online perché insomma con tutti questi video che si trovano in qualsiasi lingua con tutte queste nozioni oggi per fortuna è più semplice imparare a giocare a scacchi e anche piuttosto benino quando ho iniziato io o si andava in un circolo o si imparava sui libri oggi ci sono libri videocorsi circoli online quindi per fortuna insomma per fortuna le cose stanno diventando sempre sempre migliori quindi va bene sono felice sono felice e si prospetta un bellissimo futuro scacchistico allora adesso sto continuando a muovere i pezzi per dar fastidio ecco potevo catturare subito prima qui giusto perché la mia torre era dove era quella torre era qua visto va bene importante essere consci che le cose non le vediamo sur uuuuh questo è un regalo questo è un regalo scacco di scoperta e ti catturo la torre questo è stato un regalino e adesso e vedi non mettere in comunicazione le torri crea questi problemi crea questi problemi di comunicazione adesso metto la torre qui e tu l'unica cosa che puoi fare è mettere l'alfiere qui per proteggere la tua torre anche io cambierò essendo il vantaggio tanto di materiale adesso ti gioco questa incrementando la pressione e se mi giochi questa ti catturo la torre ok direi che il vantaggio di materiale è sostanzioso ma c'ho 31 secondi c'ho 31 secondi quindi è anche l'ora che io mi dia una svegliata rimetto la torre in settima così non esce più e adesso entro con l'altra torre da qualche parte faccio un po' di manovre va ok tac e matto alla prossima vado di pre move ok bene bene faccio un'altra poi penso che per oggi mi fermo e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao